Il Fondo di Previdenza Integrativa Complementare Mario Negri è garantito contrattualmente ai dirigenti del terziario in aggiunta alla previdenza obbligatoria, INPS o altro ente sostitutivo. Attivo fin dal 1956, prevede, a fronte di un versamento annuo di 8.830 euro, prestazioni flessibili e adattabili alla sempre più mutevole vita professionale. Si tratta di interessanti prestazioni previdenziali, quali la liquidazione della pensione di vecchiaia o anzianità in rendita o in capitale, il riscatto della posizione individuale, il trasferimento ad altro fondo pipollente, pensioni ai supestiti, pensioni di invalidità, utilizzo del capitale accumulato per finanziare la rita, la rendita integrativa temporanea. È inoltre possibile e fiscalmente molto vantaggioso conferire al fondo il TFR e o comunque altri versamenti aggiuntivi. Sono inoltre erogate altre prestazioni assistenziali che prevedono il sussidio per i figli minori disabili, un fondo speciale di assistenza per particolari situazioni di bisogno del dirigente, borse di studio per i figli, mutui ipotecari. Nel caso di uscita dal contratto è sempre possibile continuare a versare volontariamente il contributo o in alternativa lasciarlo in gestione al fondo per un periodo massimo di 10 anni. Il fondo offre per la sua natura e storia rilevanti vantaggi sul piano fiscale, normativo e solidaristico, non riscontrabili negli altri fondi pensione. Il fondo Negri, sotto la vigilanza della Covip, può destinare al massimo il 35% degli investimenti nell'azionario e lo fa attraverso un pool di selezionati e noti operatori finanziari. I rendimenti sono da anni in linea o superiori alla media dei fondi pensioni contrattuali e nel 2016 sono stati pari al 2,15% per la rivalutazione dei conti individuali e dal 2,44% per il trattamento di fine rapporto garantito, ben superiore a quanto renderebbe l'azienda.